Musica Benvenuti in stortini Eccoci qui in un nuovissimo video dei balli di Fortnite Del vostro stortino nazionale che più storto non ce n'è Oggi siamo qua in un nuovissimo episodio Si sente già Siamo pronti già a ballare Comunque Prima di partire con il video vi devo dire una cosa molto importante Per chi volesse partecipare al prossimo episodio Dello stortino che balla e balli di Fortnite Ho intenzione di fare un video insieme a voi Cosa dovrete fare? Dovrete semplicemente fare un video Dove ballate Un ballo di Fortnite Me lo dovrete mandare Le mail che trovate qui sotto Ovvero starto ma non troppo Chiocciolagmail.com Con oggetto Ballo di Fortnite Quindi almeno sappiamo distinguerlo Vedo un capello Mandatemi le mail E poi cosa farà lo stortino? Prenderà i vostri video Dove ballate appunto un balletto E lo stortino dovrà ricopiare il balletto che avete fatto voi E poi ci metteremo a confronto Detto questo non perdiamo altro tempo Ho preso gli ultimi balli di questo ultimo periodo su Fortnite E proviamo a farli Ok ci siamo Partiamo col primissimo video Mi viene da ridere E si è avviata Siri Certa Fa così Fa prima gamba destra Poi gamba sinistra Fa battere le mani Fa così 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 Il secondo Ah Si A serie E Ah E A serie E riscopraseva questo Come cavolo Questa è la tipa eh Cos'è che fa? Così Ok Ok Così Cos'è che fa? Suona qualcosa Sta suonando tipo Il lao Io non ho niente Quindi facciamo suonare così Come cazzo? Come? No raga ma è difficilissimo Ma come cazzo eh Tu hai pure la piruletta Chi è questo? Batman E questa è la piruletta No ma non si capisce No non si capisce Luca Questa è Questa è Ma con il gioco Sempre così gira Porco Vieni Ma come è? Quella delle tippe Non ci capisco niente Raga Le tippe si fanno Invece i maschiati Fanno le cose easy E invece le tippe Sempre cose difficili No questo è lo salto Questo è la tippa Fa così Fa con gli sci Fa io Si alza Si abbassa Braccio in avanti Braccio su E non riesco Tutti e due braccio su Si gira Fa così Ok No raga Ma fate i balli Un po' più Fa Si Si Ciao Questo qua Ma come faccio? Sono scatenati Con ste braccia Raga Ma fate un ballo Anche per persone Disabili Che non riescono Con le braccia Fate un ballo Dove semplicemente fate Ti 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 Questo qua? Questo qua Questo è quello Degli aerei Avete presente Gli aerei Che fanno Che fanno I segnali Con quei cosi luminosi Ecco Uguale Questo qua Mi sta Eh Eh Sì Eh Eh Sì 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 Cucu Come è Cucu Ok basta Non ce l'hai di le campanelle No non ce l'ho Facciamo così Le campanelle Raga non ce l'ho Le campanelle Sì Ciao Come faccio? Si girano indietro Che cazzo Si è eccitato? C'è partito calmissimo Uh È partito calmissimo Sì Va bene C'è l'intero Ok Fa così Fa così Fa con le braccia Più let Et voilà Ma io mi sfido a farli Raga Ma io mi sfido a farli Ma come cavolo è? Ma che è sto coso? Porca vacca raga Ho già perso 20 anni Della mia vita Si gira Ti scatto dritto Fa così Con le braccia in su Fa così Si gira Fa così Si gira dritto Posta Ragazzi Basta Io adesso Io adesso Faccio una petizione Raga dovete Bombardare Sotto L'ultimo post Di instagram Di fortnite Con Hashtag Great dance Stortino E mi taggate Perché adesso Adesso Vi mostro Non questo Vi mostro Un ballo Realizzato Dello stortino Vi sfido A farlo a casa Taggatemi Su instagram Ora Voglio creare Il mio ballo Voi Fatelo a casa Mandatemi il video Via email Sempre Stortemelo un troppo Chiaraccelagmail.com Chiamato Ballo dello stortino Perché appunto Prenderò il più bello Il più simpatico E lo metterò Nel prossimo episodio Dei balli Come Chicca finale Ci siamo Il ballo dello stortino Sarà questo Mani su fianco Gambe distese E iniziamo a girare Il ballo dello stortino Questo È Altro che i vostri balli Questo Questo Il ballo dello stortino Fa niente Se faccio cadere tutto Perché questo Fatelo anche voi A casa Ciao 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 Ciao